Flavio tu non ruberai più seri a nessuno Suka Sì e comunque sono tornato Ma aveva rubato il salvataggio E andato avanti lui Perché è divertente Dov'è che eravamo? Dovevamo andare a battere La palestra No questa è la torre Scherzavo Sì torna indietro Andiamo con chi siamo qua Allora Fungo pova bubi Schissimi bracione Laman e tumore Ok Chi ha alcuni di esperienza qua? Nessuno Ehe Allora move pokemon E infatti ha il brain link Grazie Flavio Però teniamo laman perché mi sta più simpatico Sì Non posso lasciare indietro il mio compagno di sempre Fattone Suka E detto questo andiamo a battere Meteo The hole Diamo il brain link a Laman Non avete visto niente Ok Ecco Suka Buona Via Night Weida You are truly an amazing figure You will be welcome To Forge Draco For as long as you live Ah me l'ha aspirato Sono un coglione Dov'è volo? Preparatevi per tanta merda Ehe Guarda chi c'è Oh I think you know Why are we Non so perché siete qui D'Antalion Della Mifava Però Mi sa che dovrò batterti Ah Scappato Un altro Freesome Wow Ok Oddio Devo mettere che in questo gioco Bubis è potentissimo Veramente Oh Polygraph Skyhacker No Gesù Dai E' da tanto che non lo faccio Skyhacker Cut everything What's Dai Oh Su Guabuo Mi sa che dobbiamo combattere contro Tutti I tenenti Della zombie in comp Si Il nome Yak E' proprio Azzeccato Eeeh Fanguo Eccolo lì Dai 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 Sì No Gesù Guogra Smit Sono plurimiliarda Ciao Killua Da quant'è che non ti vedevo Ho un tipo buio Penso No eh What about this Face Switch Fallo fuori con Taiyu Ti prego Si Che potenza No 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 Ma questo qui E' il mio amico Worldbreaker Sniper Codex X98 Tumulens Shit Non fa ripropozio Dai Ce la possiamo fare Farlo fuori Su 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 Dio Non è il momento Tai A 95 di precisione Flash Ma porco Dino Perché Perché devi paralizzarmi sempre Perché Perché Tra l'altro Quella massa Può sia far tentennare Che paralizzare Guarda Ma io di così Proprio Ariama Ah è vero che è anche di tipo normale In questo gioco Quindi Sky uppercut Everything Ce la dobbiamo fare Ehm Sì No Oddio Mio Miasmar Guarda Miasmar La potenza Di Goobies Oh Non l'avevo vista Giuro Pensavo fosse una pianta Sanno Un'idea Ma vai Ma vai a cagare No Perché Grazie Shit Ok Ok Ora non ci resta che Parlare con Quel Tipo che non ho mai visto Patetico Ah Ma che cazzo No Asimov Che cazzo Alla fine ci incontriamo Guida Cosa hai fatto Asimov L'ho Smaterializzato L'hai ucciso Beh Se vuoi chiamarlo Se vuoi Metterlo in questo modo Devi essere Quello che chiamano Il signore oscuro Dell'est Quell'uomo Ora vi giuro La scrittura L'hanno fatta In Grigio chiaro E non riesco a leggere Poco niente E' corretto Il mio nome È Senex E Faccio parte E Ehm L'ordine del diafro Non doveva interferire Se l'ordine del diafro Non avesse interferito Avrei completato La cerimonia Per l'evocazione Di un Di un altro Mio di zombie Ah Sì Insomma Voglio i tuoi occhi E Farò di tutto Per ottenerlo Cazzo Manco avessi lo sharingan Grazie Danzo Ti chiamerò Tu sarai Danzo D'ora in poi Ok Danzo Ok Bene Quello è un pene Peni Peni Basta Tranquillo Tu continua a fallire Oddio Colpa mia che aver ucciso troppo Il emulatore Allora Qualcosina toglie Perché facciamo flash No no Non devi Ora fa ipnosi Guarda No Bene Ok Nel frattempo Non può curarsi Perché sta facendo Perfetto Luca Zamond Da fuck Quello è Rayman Invece Porco Laman Confido in te Cioè Fai qualcosa Shit Asuka Vai man Come fai a paralizzare Un pokemon Fatto di magma Come cazzo fai Tranquillo Io faccio ancora Amnesia Tranquillo Oh Eccolo lì Senti Succa Ha ha Axe For the win Perfetto Manca l'u Ci rincontriamo Shaderu Questa è la vendetta Allora Teniamo l'aman Io Succa Shit Ah Guardalo Come scula Allora E se Si Ti continuo a farti Destiny Io ti continuo a farti Destiny Bond Tu Si Dai 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 Bravo Scemo Forte Forte Abbastanza da Battere i tre Leggendari Oscuri Eh Sass Wow Sass Premio Nobel Per la pace Allora Dobbiamo andare Alla Lega Pokemon Cioè Di già Ma Ho Tutti le medalie No Ok Facciamo Quello Che c'è Di fare Ok Ragazzi Ok Adesso Insegniamo Sub A Kiss Me Togliamo Poison Sting Ah ma Aspetta Grazie al cielo Via Siamo una bella cosa Andiamo Sì Ok Sì E se io andassi giù What What the fuck Dove cazzo sono What the fuck Ho trovato un bug Oh mio dio Sì Però ora mi incula Devo ammettere Che mi togli Tantissimo Ok Tanto per sapere Dove che sono Ah Ecco Facciamo così Ok Però non vado lì Cosa Non c'è verso di battere questo mostro È tempo di scappare Beh Eccoci qua la lega Pokémon Però mi sa che la fronte come nella prossima parte Per Che Eh sì Quindi ciao a tutti E alla prossima ragazzuoli Mi raccomando Condividete il video E Mi piace Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti